ho detto questo e il cammello il progetto di messaggi dell'olimpiade uno dei suoi messaggi era la vittoria più grande vabbè dai allora prima fa la pelle non stacca che non si applica gli atleti che tornano a casa dal medaglio di legge no no aspetta qui mi spavessi gli atleti che sono tornati a vincere anche oggi Grazie.